Ciao ragazze, eccomi tornati in un nuovo video. Allora, oggi video Lidl finalmente, tutte le offertine che sono uscite nell'arco della settimana. Allora, se non lo sapete già, ma tendo sempre a ridirlo perché comunque molte ragazze ho visto che non lo sanno. Lidl ha due uscite settimanali, il lunedì e il giovedì. E le potete trovare tutti gli oggetti visibili singolarmente sulla loro applicazione oppure direttamente sul sito. Devo dire che questa volta c'erano delle cose meravigliose, bellissime per la casa e le potevate trovare il lunedì, quindi decorazione della casa, cosette veramente belle. Mentre il giovedì, ossia ieri, c'erano delle uscite più per il giardino e la decorazione dell'esterno della casa. Io devo dire che sono stata brava questa volta, ho preso poche cose perché se iniziava a comprare tutto ragazze uscivo senza un euro. Perché queste uscite sono state un pelino più care rispetto a quelle scorse, massimo si stava sui 10 euro e un acquisto che vedrete che ho fatto l'ho pagato 20. Però sapete, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 10 euro di qua è alla fine uscire con 50 euro di cose fatte, di cose comprate, che alla fine della fiera sono oggettini che uno compra per abbellire casa. Però diciamocela tutta, servono e non servono, sono giusto da abbellimento. Quindi, io direi di iniziare subito perché sono veramente entusiasta di queste cosine che ho preso. Allora, come prima cosa ho acquistato queste due cornicette che appunto sono a forma di casetta, come vedete una bianca e una grigia. E queste le trovo veramente carine e volendo si possono appendere perché dietro hanno il gancino oppure le potete mettere su un mobile, insomma, messe così. E venivano, vi faccio vedere anche la scatola, venivano vendute in questa scatolina qua. Ce ne erano di diversi tipi di cornici e queste, allora, queste quelle pagate 5 euro, 4,99. Ma veramente lunedì sono uscite tantissimi tipi di cornici. Allora, se ragazze vi interessano ancora le cornici, io essendo andata ieri a prendere le ultime cose, ho visto che nel mio Lidl c'erano ancora parecchie cornici. Quindi quelle non sono andate a ruba, quindi se vi può interessare potete ancora trovarle, ovviamente sempre se il vostro Lidl è fornito. Vi faccio vedere nell'applicazione le cornici che c'erano perché almeno vi fate un'idea. Erano molto grandi, infatti venivano 8 euro ciascuna. E le potete vedere, io spero si vedano. Sono appunto grandissime con scritto Family Memories Friends, mi pare. E questa qua che all'inizio volevo prendere, che era un cuore enorme con tutti gli inserti per le foto. Però poi quando l'ho visto non lo so, non mi convinceva un grand che. Quindi niente, ho lasciato perdere. Poi vi faccio vedere che cos'altro c'era. E anche queste le potete ancora trovare. Perché non sono andate grand che a ruba. E sono queste scatole decorative con appunto un po' vintage. E se no, che una cosa che mi piaceva tantissimo, che però non ho preso perché questa veniva 10 euro, però toccandola della consistenza, era veramente un buon prodotto, anche bello pesante. Erano queste scatoline con scritto Home oppure Love. E se no, sono tre scatoline portagioie. Questa qua erano due cassettini impilati uno sopra l'altro. E questi qua mi piacevano veramente tanto. E anche queste erano rimaste ieri, quindi secondo me volendo potete trovarle. E infine, c'erano questi quadretti in legno oppure porta strofinacci, oppure porta giubbotti, quelli appendi abiti insomma. Appunto questi qua, questi qua con il vino, questi con Parigi e questi due invece, io e me. E se no, questi erano i due appendi abiti. E questi venivano 5,99 euro gli appendi abiti. Passando invece ad un altro oggettino, questo qua non è, secondo me non è rimasto più niente. È quell'oggetto che è stato più richiesto in assoluto, quello che è andato a ruba. Io ieri non ho visto più nemmeno una briciola. E si tratta, vi faccio vedere prima la scatola, delle lavagnette da scrivere appunto col gessetto. Ce n'erano di diversi tipi, formati e colori. Io ho preso appunto questa qui, che è molto carina secondo me, è tutta in legno, questa parte è in lavagna. Con scritto things to do, poi abbiamo qua queste bellissime mollettine, che poi magari ne metterò io di colorate, perché queste due scussole sono un po' tristi. E magari uno mette il bigliettino della spesa, così almeno si segna tutte le cose da comprare. E poi c'è scritto enjoy living e io ho messo be happy, perché così mi piaceva un prememoria da vedere, da mettersi bene in testa tutti i giorni, ricordarsi di essere felici ogni giorno. E questa qua, i gessetti sono inclusi e la potete appendere attraverso questo spaghetto, quindi molto molto carina. Di lavagnette ce n'erano veramente l'imbarazzo della scelta. E infatti è stato veramente un arduo compito, diciamo così, scegliere la giusta lavagnetta, quella che mi piaceva di più, perché in realtà mi piacevano tutte, quindi avrei voluto comprarle tutte. Poi, sempre per la casa, vi faccio vedere che cos'altro c'era, così magari potete, se vedete qualcosa che vi piace, potete andare in negozio di corsa a comprarlo, se è rimasto. E le lavagnette venivano appunto 4,99. Se no, hanno creato, hanno messo in vendita, così, degli elementi decorativi a led. Infatti, tutte queste scritte, decorative, con scritto home, tutte a led, penso che siano con la lucina. Le decorazioncine venivano 5,99. E poi ci sono questi cuscini per le seggiole, che ero molto tentata di prendere. Questi venivano 4,99 l'uno. Ero molto, molto tentata di prenderle, perché volevo metterle nel mio salottino da esterno, in un giardino, però il mio fidanzato mi ha detto che le sedute erano troppo grandi rispetto al cuscino, quindi niente, non le ho prese, anche se mi piacevano molto queste, c'erano in negozio. E sempre, dei soliti colori, avevano fatto il set di grembiule, presina e manina, diciamo, come si chiama, guanto da forno, a 6,99, sempre con i soliti colori. E molto, molto belli. Penso di tornare a prenderlo per metterlo nella mia stanza dove mi faccio le unghie. Sono gli orologi. Gli orologi sono qualcosa di bellissimo e meraviglioso. Vengono 4,99 euro. E ci sono di diversi tipi, con gli uccellini, con i cupcake, molto stile anche questi shabby provenzale. E un po' antico così, sapore un po' antico. Questi veramente, veramente belli. Come ultimo oggettino preso lunedì, vi faccio vedere una cosa che non c'era né sul catalogo, quindi né sul volantino né sulle offerte, che sono rimasta veramente contenta di averle trovati. Si tratta di queste lucine a LED. Adesso ve le apro. Ops. Messaggio su YouTube. E' una catena luminosa a LED. Sapete quelle che si comprano anche da Ikea? Che hanno la batteria. E sono un filo di 10 luci. Eccoli qua. Un filo di 10 luci. Questi qua sono fatti con dei cuoricini rosa. E la cosa che mi ha stupito veramente tanto è aver trovato già le batterie inserite. Perché anche da Ikea, quando andate a comprarle questi fili ornamentali, le batterie non sono mai incluse. Che non è una cosa scontata. E' una bella cosa secondo me trovarle. E abbiamo il tasto off. Leggo ora on. O se no il timer. Penso che vadano a tempo. Dopo un po' si spengono. Quindi queste ve le faccio vedere anche accese. Che si vedrà poco con la luce. Però sono veramente, veramente bellissime. Comunque se le volete vedere bene accese, queste lucine vi avevo messo una foto su Instagram. Quindi se volete andatemi a seguitemi anche lì che la trovate la foto. E questi sono tutti gli articoli che ho preso lunedì. Adesso lascio il pezzo forte per ultimo e vi faccio vedere che cosa ho comprato ieri. Allora, ieri c'erano delle uscite un pochino più per l'esterno. Quindi magari chi non ha il giardino non è che gliene freghi più di tanto. Però vabbè, per il terrazzo magari qualcosina si potrebbe mettere. Allora, per prima cosa vi faccio vedere che ho preso questi vasi. E questi sono ottimi da appendere, ad esempio, per chi ha il terrazzo. Sono dei vasi con il gancio. E sono anche molto grandi. Avevano un prezzo di 5,99 euro, quindi 6 euro per due vasi. E sono veramente carinissimi. Adesso ve li faccio vedere subito. Allora, sono innanzitutto grandi. Io ho preso questo che dalla fotocamera sembra bianco gesso, invece è un bianco panna. Molto bello. Sono due vasi così, belli grandi. E se volete hanno anche il gancio che voi lo incastrate. E potete appenderlo al vostro terrazzo. Quindi se siete in appartamento alla fine è buono. E questi vasi ornamentali li potevate trovare in fucsia, verde, giallo e questo bianco qua. Quindi veramente, veramente belli. Poi per il prezzo 3 euro a vaso, alla fine è un prezzo anche giusto e ragionevole perché sono molto grandi. Adesso vi faccio vedere il pezzo forte, poi abbiamo concluso. E io penso che da quando l'ho visto sul sito non la vedevo l'ora che venisse giovedì questo per andarla a prendere. Mi sono fissata e ero indecisa fino all'ultimo. Alla fine mi sono decisa ed è... ve lo mostro subito. Che poi secondo me non c'entra nemmeno nell'inquadratura. Vabbè, vediamo. Vediamo come fare. Allora, si tratta di questo... Aiuto! Questo... non so nemmeno come definirlo. È una fioriera decorativa per interni ed esterni. Ecco. Ed è risolto il dilemma su che cos'è. Allora, riuscirò a farvelo vedere? Non lo so. Tanto è leggerissimo. È questa... questa specie di scaffalatura fatta con... questa qua è in colore un verde salvia all'acqua. Penso che sia un colore all'acqua che fa intravedere le trame del legno. Ha la sua lavagnetta qua davanti dove potete scrivere quello che volete. E poi ha uno, due e tre ripiani dove potete inserire e mettere quello che volete. Quindi vasi di fiori oppure elementi decorativi come ad esempio gli annaffiatoi... Oggi non mi lasciano in pace. Elementi decorativi tipo annaffiatoi oppure vasetti. Insomma, quello che più vi piace. Non è tanto alta. E questa l'ho pagata a 20 euro. Non è tanto alta. Io pensavo che fosse un pelino più alta. Però mi piace tantissimo. Da quando l'ho vista mi sono innamorata e quella era la prima cosa che veniva a casa con me. E la trovate sia in questo colore un pochino verde salvia, la trovate in color pino, quindi liscia senza essere già stata pitturata. O se no, la trovate in versione diversa, quindi doppia, che ha degli scaffali lunghi, tre scaffali lunghi, così la trovate in bianco. Quindi ragazze, con questo abbiamo concluso. Io spero che questi piccoli acquisti vi siano piaciuti. Spero di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere se anche voi avete trovato quello che cercavate oppure che questo video vi sia risultato utile per poi andare a correre alla Lidl e prendere quello che avete visto, che più vi piaceva. E come sempre ragazze, io vi invito a seguirmi su Instagram, come vi ho già detto. Trovate giù il link nell'info box. Vedo che tantissime ragazze non mi seguono su Instagram. Quindi ve lo ripeto sempre, perché magari se vi fa piacere io sono anche lì. E se non siete ancora iscritte, a iscrivervi al canale. Vi mando un bacione adesso ragazze e ci vediamo prestissimo in un prossimo video. Ciao!